...di lavori assi, merteva tutte le sue forze, questo vodice mai scurta. Oh, sono due, sempre due, il nostro angelo fluo. Lei l'attezza di altri quattro figli, lascia cuore alla famiglia che ho potuto immaginare. Genti già sull'arri di lui e l'anno, gente conoscette un male, anche un male non già sta. Una ragazza speciale a ma da due, tommai sa.